Amici di FIF mi trovo in mezzo a due uomini, due futuri, ma chi lo può sapere, due presenti e forse uno della federazione italiana FIDES Come fare? Loro sono due ragazzi molto bravi che li avete sul palco ad esibirsi in questa convention a Bologna E sono in balottaggio ormai, sono passate due donne, ma noi uomini, noi terremo duro, giusto uomini qua? Giusto Ok, allora io non le, i nomi non me li ricordo, allora partiamo alla mia destra, qui alla mia destra io ho? Davide Dell'Orletta Davide, bene, alla mia sinistra Luca Gasali Luca Gasali, benissimo, questi due ragazzi avete la possibilità di vederli su Youtube ma anche sulla pagina della federazione italiana FIDES Dove si sarà possibile, anzi, il loro futuro è nelle vostre mani, quindi come fare ragazzi? Molto semplice, mi stacco da loro perché loro avranno un link sia Davide, sia Luca Avranno due link completamente diversi che saranno correlati al canale di Youtube della federazione Come fare? Basta semplicemente che cliccate sul mi piace o su Davide o su Luca e in base a voi ragazzi andranno alla finalissima a Welcome Fitness Bene, allora Davide fai tu un saluto, dai comunque un bel input e farti votare Allora io ho tutte le qualità tecniche e di showman per andare sul palco di Rimini, quindi per favore cliccate mi piace sul link sulla mia pagina di Facebook e niente, grazie ancora Bene, grazie a te Davide Parola Luca, dimmi un po' Guardate i due video, quello che vi piacerà di più, votate a voi la scena Ragazzi, scorta, ma dobbiamo far votare il video, ma diglielo che deve votarti, ma non così, fagli capire perché, fagli vedere i muscoli, vai, diglielo Perché io posso, io posso, io se lo faccio Ma non fa diglielo che sei tu meglio, faglielo vedere che sei meglio, diglielo Votatemi Bene ragazzi